Io sono Giannetta Cascella Montani e vengo dalla famiglia mio padre Tommaso e i suoi fratelli erano figli di Basilio Cascella e mi ricordo soprattutto questa atmosfera che c'era di grande amore per l'arte perché era il lavoro di tutti, si parlava sempre esclusivamente di arte e proprio per come ci è stata insegnata c'era prima di tutto il rispetto per l'arte. Mi ricordo Basilio quando veniva che si sedeva in genere, non veniva tanto spesso, si sedeva a capotavola, esclusivamente si parlava di arte e guardavo soprattutto come lui mangiava il pesce, questo mi colpiva molto perché neanche il gatto non avrebbe mangiato così, proprio un piatto sembrava un quadro di Morandi, non so c'era proprio la spina, la testolina, la coda, proprio pulito il piatto. Quello che devo dire è che eravamo molto creativi, molto. Quando mio padre doveva fare degli affreschi e ci dava da bucherellare le grandi carte per fare poi i cartoni, diciamo così, che dovevamo bucherellare tutti i contorni. Il papà era molto molto metodico come tipo, si alzava all'alba, lo dicevamo, andava fuori a lavorare. Dopo colazione si ritirava nel suo studio a dipingere e non poteva volare una mosca, tanto che l'estate ci mandava via, prendeva delle case sul mare e lui stava a dipingere nel suo studio. E poi la sera con mamma andavano sempre al cinema. La figlia del marinaio, la figlia del medico, la figlia dell'ingegnere e nessuno era figlia di un pittore, non so come dire, era il lavoro dei miei. Anche poi anche i miei fratelli... Io non so mare un disegno. Andavo molto molto d'accordo con Pietro, non so perché c'è il legame che ci è rimasto tutta la vita. Pietro era quello che portava sempre cani, gatti, uccelli, pesci, lucertoli insomma quindi proprio aveva una grande dimestichezza con tutti questi animaletti, queste cose. Andrea era il più grande ed era riservato come lo è stato sempre poi anche nella vita, sembrava un po' freddo diciamo come tipo. E ha fatto il partigiano per 21 anni, è stato comandante della brigata Garibaldi e cittadini onorati della Valdossola, quindi è stato un partigiano notevole. Finita la guerra, tornò il campanello, andammo ad aprire e insomma c'era lui e ci disse buonasera, che dite se mamma ci prepara stasera una cenetta di pesce? Si può trappare? Siamo rimasta sbalordita, non sapevamo niente di lui da 2-3 anni, niente. Si apre la porta e ci diceva questa frase. Finana era ai suoi piedi, proprio avrebbe potuto trovare il posto che voleva, gli incarichi che voleva. Ha fatto perdere le sue tracce, si è chiuso nel silenzio. A un po' più di 30 anni ha cominciato con queste sculture, ad affermarsi, a farsi vivo. Gli anni oscuri, mentre Andrea dice io devo essere commissionato, per dire la sintesi. Invece Pietro, tipo il nono, faceva anche perché lui voleva fare quella cosa. Lui dice io non voglio che l'arte la goda solo chi sta in quella casa. Io voglio che tutti possano godere delle mie cose e quindi ecco i monumenti, ecco i monumenti. Due tipi fondamentalmente diversi. Grazie, abbiamo fatto una chiacchierata.